Approfondiamo un po' di più su chi, da dove viene questa pubble che faceva le interviste alla Sapienza, andava a fare, lo dice lei, andate a vedere il video prima. Nel settembre 2021 era intervistata da Italia Ambiente, sì, gli stessi quelli che bloccano, che bloccano le strade per l'ambiente, lo sapete? Perché veniva intervistata da Italia Ambiente, Italia Ambiente, andate a vedere chi è Italia Ambiente, ok? E lei veniva intervistata, pubble, seguitissima vignettista di Satria che sta utilizzando i social network, ad oggi il via, un nuovo video rubrica della provincia che narra i fatti e i misfatti storici per leggere la maggiore e migliore angolazione e gli accadimenti del nostro tempo. Solo due mesi fa risale un posto che ritrova sotto il frontone del tempio di Artemide a Correfu, ho deciso di con voi la mia più grande passione, oltre per la Satria e l'arcologia a quale ho dedicato lo studio, ok? Ok, questa è pubble, pubble, la retorica, l'ignoranza, Facebook, e viene da quest'ambiente qua di sinistra, Italia Ambiente.